Quanto bene ricordi la storia della Seconda Guerra Mondiale. Puoi restringere il campo. Mai sentita l'operazione Minsmith? Qualcuno muore con in mano un indizio cruciale. A saperlo che mi avrebbe cresciuto Colombo. È la vita di un uomo. Come staresti se un innocente morisse? Hai fatto un pezzo alla Sherlock davvero impressionante. In Prima TV, Harry Wilde, la signora del delitto. Martedì, 21.25, Rete 4. Martedì, 21.25, Rete 4.